Questa è una notizia per i fan veramente hardcore di My Hero Academia. Furio ha infatti in serbo per voi un grandissimo busto in scala 1 a 1 di Midoriya. Avete capito bene, scala 1 a 1, quindi grandezza naturale per un'altezza di ben un metro. Un oggetto da collezione non per tutti, ma che vi permetterà di avere in casa una riproduzione fedele e a giudicare dalle foto di qualità. La tiratura sarà molto limitata, del genere made to order, ovvero verranno prodotte solamente le copie ordinate, quindi non una di più, non una di meno. Se siete veramente intenzionati all'acquisto non dovete lasciarvelo scappare. Dovrete tuttavia valutare il prezzo di listino di ben 343.000 yen, circa 2.800 euro. Non proprio spiccioli, ma se amate veramente Deku è forse la volta buona di dar fondo a portafogli o vendere un rene, a voi la scelta. Come se non bastasse, Furio produrrà un busto anche per Bakugo e chissà, magari se queste due produzioni avranno successo, proseguiranno ancora. Per il momento da Daniele di Itacon.it è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!